Salve amici di Youtube e benvenuti in questo ventunesimo episodio di E... Sto ai... perché stavo per cadere... Sto aiuto! Ciao! 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 E' un'altra parte, che cazzo. Grazie per la visione! Di nuovo il remizio! Mi tocca perché... Che palle! Che palle! Ok... Con le passette guardate! Che palle! 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 ah è finito ah 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 Non lo so manco Sì il mio pc è sempre nello stesso punto C'è lo sbatto sempre lino Trovai l'interruttore che isolava l'elettricità Era ormai giunta l'ora Da affrontare la verità Ciao Tanto per dire un ciao magari c'era mai pululina scossa Scoprire la verità Malok vide cosa stavo facendo Cosa? Era Furibold Sì sì capo Subito Subito Pazzo di idiota E ordinò di ucciderci tutti Un po' di ucciderci No, 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 no. No! No, 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 no. No! 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 Se lo si manda! E' lui! E' lui l'unico! E' lui l'unico! E' lui l'unico! E' lui! E' lui! Perché? Quindi ragazzi Questa è stata la mia serie di Abel durato 22 episodi Perché uno non lo contiamo Perché c'era un episodio che doveva contare Per l'undicesimo episodio Ma l'ho unito con Quello del decimo o con quello del dodici Comunque quindi non l'avete perso L'undicesimo episodio Cioè un po' di episodi L'avete perso, nel senso quelle porte Che avevamo trovato degli scrub Che non Non so perché non mi ha registrato action Quell'episodio ma erano 4 o 5 porte Che non ha registrato Quindi ragazzi mi dispiace per Quei 5 porte che non avete visto Degli scrub Però comunque Spero che la serie vi sia piaciuta di Abe Ci sarà anche il secondo Abe Che io vorrò fare ma Richieste Quindi se voi volete che io faccia quella serie del secondo gioco Di Abe Lo faccio senza problemi Farò Abe No non di se ma l'altro Non mi ricordo il titolo Spero che Me lo chiederete in tanti Perché Se non Comunque Non ci sono molte richieste Faccio una serie su Warcraft Che avevo intenzione di fare una serie su Warcraft E poi Gli altri giochi che io Volevo fare la serie Ma avevo Abe Che mi fermava Quindi non potevo fare Abe Potevo fare le altre serie Perché c'era Abe Che volevo finire Ciao 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 Ok Quindi ragazzi Spero che vi sia piaciuta la serie E che mi chiederete anche se volete La seconda stagione di Abe Quindi il secondo gioco di Abe Quindi per questo video è tutto Un saluto da Payon Community Ciao a tutti